Ultima considerazione di quest'ultimo video, mi hanno chiesto perché officina del pilota, chi è il pilota? Ma nessuno fondamentalmente, però io volevo spiegare questa cosa, la macchina se ti piace, mi dicono carino il nome officina del pilota ma chi è il pilota? Nessuno in realtà, è un nome che mi è venuto in mente perché io penso che ognuno di noi vorrebbe essere un po' pilota, cioè se domani ti dicessero tu sei Charles Leclerc, meglio Ayrton Senna, grandissimo campione. Ma se ti dicessero vuoi essere Ayrton Senna per un giorno e fare quello che ha fatto lui sui cordoli? Sì, certo che sì, poi non me lo posso permettere né io né tanti di noi, non sono neanche capace, per cui è che se ti piacciono le auto sportive è palese che ti piaccia anche guidare un po' in maniera sportiva come un pilota, per cui l'officina del pilota è un po' quella cosa lì, cioè io la sera dopo cena la prima cosa che faccio, e lo so che sono un po' limitato, apro auto scout e comincio a guardare macchine, coupé, roadster, trazione posteriore e tanti cavalli principalmente, faccio questa ricerca, poche volte riesco a trovare macchine che costano poco, che posso restaurare, posso comprare, perché dico le compro, le ristrutturo, abbatto i costi, poi le rivendo, chissà che non si valorizzino nel tempo e quindi ho una sorta di come un assegno circolare. Non succede mai, almeno nel mio caso, perché io una macchina dopo che l'ho acquistata e l'ho ristrutturata non la vendo più. Mi sono affittato un garage che porta sei macchine perché dopo averle ristrutturate le ho parcheggiate lì e non le ho mai vendute, non ho nessunissima intenzione di venderle perché ogni volta che entro in quel garage mi batte il cuore, sono gasato, mi piacciono da morire, me le guardo, me le coccolo. È vero pure che pago un botto di bolli e super bolli ogni anno, io ragazzi metto 7 euro al giorno dentro un salvadanaio perché alla fine tra una cosa e un'altra, vediamo con la calcolatrice, 7 per 365 giorni uguali, ok io pago 2555 euro di bolli l'anno e ho solo 4 macchine. Ho messo sull'astrico una famiglia? No, perché poi lavorando come un matto in altri settori eccetera eccetera riesco grazie a qualcuno, a me, grazie a me a tenermi queste belle macchine. Dici ma te le vuoi vendere? Boh chissà, per esempio la Subaru è invendibile, è invendibile, è una macchina che ha delle caratteristiche, una cattiveria, una Subaru del 2002 senza controlli di trazione, veramente dopo la 22B ci fu la mia, ogni volta che salgo su, apro le prime 3-4 marce che eroga in una maniera così brutale, mi sudano le mani, mi vengono i brividi e dico io questa macchina non la venderò mai, ok? Questo è l'ultimo pensiero prima di chiudere questo video. Tutto questo che avete visto, questo mondo, l'officina, le mie più grandi malattie, chiamiamole così, vengono dalla passione per le quattro ruote, per la guida. Io vorrei fare sempre esperienze di guida tutti i giorni, non lo posso fare e mi accontento anche un po' con l'officina. Ma se potessi mi dicessero chiudi gli occhi e esprimo un desiderio, oggi è il tuo compleanno, hai appena ereditato un milione di euro, ti sono più di talcello, cosa vuoi fare? Io voglio andare in pista, voglio andare in pista, va bene anche il Mugello, mi metti a disposizione un bel F355, assetto gara con 400 cavalli, slick, roll bar, un bel casco, arrivederci, io sto tutto il giorno in pista. Comunque ragazzi, il video termina qui, ci vediamo domani con un altro video, farò tanti piccoli video vlog degli Highlights, sempre nel mondo automotive, rimanete connessi se non sei iscritto, iscriviti a questo canale, e grazie per la visione, se il video ti è piaciuto, metti like, ci vediamo presto! Mi dici perché il 97% del mio canale è frequentato da uomini e il 3% da donne, perché la categoria è auto e motori, o perché YouTube è una piattaforma più per gli uomini? Perché io non credo sia così, se vedi dei video di cucina o di moda, no beh, effettivamente moda, molto più Instagram. A proposito di Instagram, puoi seguirmi su Officina del Pilota, Officina del Pilota. Comodo, facile e veloce, storie rapide, con Schermo Square avrai un aggiornamento continuo tutti i giorni. Seguendomi sul profilo di Instagram, Officina del Pilota, potrai vedere cosa mi succede quando vado da Luca, Empower, quando vado da Andrea, Karker, in questi giorni stiamo facendo un sacco di cose. Instagram, boom! Video, upload, ci siamo, siamo online, siamo sul pezzo. Ciao ragazzi, buon anno a tutti e ci vediamo domani! Ciao ragazzi, buon anno a tutti e ci vediamo domani!